Voi portate i vostri figli per ricevere il battesimo e chiedete voglio per mio figlio la fede, così la fede viene trasmessa da una generazione all'altra come una catena. Papa Francesco ha parlato così nella festa del battesimo del Signore ai genitori dei 26 bambini, 13 maschi e 13 femmine, che ha battezzato nella Cappella Sistina. Una breve omelia braccio nella quale ha spiegato che questi bambini, queste bambine, passati gli anni, occuperanno il vostro posto con un altro figlio, i vostri nipotini, e chiederanno lo stesso, la fede, la fede che ci dà il battesimo, la fede che porta allo Spirito Santo, oggi nel cuore, nell'anima, nella vita di questi vostri figli. Voi avete chiesto la fede, la Chiesa quando vi consegnerà la candela ascesa vi dirà di custodire la fede in questi bambini. E alla fine non dimenticatevi che la più grande eredità che voi poteste dare ai vostri bambini è la fede. Cercare che non venga persa, farla crescere e lasciarla come eredità. Questo è stato l'augurio del Papa a tutti i genitori in questo giorno gioioso, essere capaci di far crescere questi bambini nella fede e che la più grande eredità che loro riceveranno da voi sia proprio la fede.